Buonasera in diretta dalla redazione di Telebari e benvenuti al consulso appuntamento con il nostro telegiornale partiamo dalla pagina politica questa mattina Emiliano ha voluto incontrare le maggiori sigle sindacali pugliesi per iniziare un percorso di condivisione con partecipazione emergenza lavoro e giunte e nomine nella giunta i principali temi di cui si è discusso il reso conto di questa giornata da Barbara Cirillo. Emiliano incontra i sindacati a rapporto nell'ufficio di presidenza CGL Cisle Will per esaminare il programma di governo e a portarvi sotto forma di proposte delle modifiche è stato Emiliano stesso a convocarla perché la parola d'ordine deve essere condivisione l'approccio è stato positivo hanno commentato i sindacati ma ora bisogna mettersi all'opera e affrontare una delle maggiori priorità l'emergenza lavoro. Diciamo che l'approccio è positivo perché si tratta di discutere sul programma noi ci impegniamo ci siamo impegnati a fornire anche suggerimenti integrazioni al programma facendo avanzare il punto di vista del lavoro che mi sembra necessario assumere in una regione come la Puglia che vive con l'emergenza del lavoro. Si impronta estremamente positivo perché praticamente lui pone una condivisione sui problemi da affrontare. Poi c'è la fase anche di verifica successiva come dire legare il programma all'azione ai cantieri è un'operazione che aspettavamo da tempo anche che in Puglia potesse consentire di affrontare poi radicalmente alcune questioni e problemi che ci sono. Altro tema all'ordine del giorno la definizione del disegno di legge sulla partecipazione che consentirà ai sindacati di promuovere dibattiti pubblici che permetteranno poi di dare i voti alla giunta sottoposta annualmente a verifica e a proposito di giunta arriva proprio dai tre segretari generali la sollecitazione di riempire al più presto le tre poltrone rimaste vuote una richiesta che Emiliano ha preso sul serio tanto da valutare di poter nominare tre donne scelte anche tra quelle non elette. Ho preso molto sul serio l'invito della Cisella Will a riassegnare rapidamente le delle che ho fatto presente che tutta la vicenda legata al cambio dello statuto che mi consentirebbe di inserire delle donne anche non elette nel Consiglio è una questione che dobbiamo valutare con il Presidente del Consiglio regionale appena questo verrà eletto. Andiamo avanti prima uscita pubblica per Gianni Liviano neo assessore regionale al turismo e la cultura l'occasione è la presentazione del programma del 41esimo Festival della Valedite che si terrà a Martina Franca dal 15 luglio al 4 agosto abbiamo raccolto le sue prime dichiarazioni. Vediamo. Con grande entusiasmo evidentemente con il desiderio di essere utile al nostro territorio ma anche con un forte senso di responsabilità con il desiderio di dare continuità a quanto di buono è stato fatto nel passato. Io credo aver bisogno di una fase di ascolto e di comprensione. Questa cosa credo che sia assolutamente naturale per chi inizia oggi. Ci sono dei territori che mi sono più familiari, più noti. Penso evidentemente a Taranto che è la città da cui provengo e la so bene che bisogna rimmaginare una visione di futuro, una diversificazione di prospettive di sviluppo insomma una vision completamente differente. Poi evidentemente nel Salento vanno consolidate delle cose esistenti e sono assolutamente apprezzabili. Mi pare di poter dire che nel Foggiano alcune cose in itineri si stanno sviluppando però insomma bisogna concertare meglio. L'asse Bari-Lecce che in questi anni ha avuto priorità è stato un asse di grande treno. Ora esistono però anche le altre città della regione che vanno ovviamente valorizzate. Adesso ci occupiamo dei Marò. La Corte Suprema indiana ha prolungato di sei mesi il permesso per rimanere in Italia ha concesso a Massimiliano Latorre per le sue condizioni di salute. Intanto la Procura indiana ha oggi accettato il procedimento di arbitrato internazionale presentato dall'Italia per il caso dei Marò. L'attivazione dell'arbitrato internazionale prevista dalla Convenzione dell'ONU sul diritto del mare è stata concessa a sostegno della richiesta della sospensione di tutti i procedimenti giudiziari a carico di Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. I giudici hanno quindi fissato un'udienza per il 26 agosto per ricevere il rapporto ufficiale del Governo sulla questione. Voltiamo pagina pubblicata ieri la graduatoria provvisoria del Bando regionale per edilizia scolastica che finanzia interventi di recupero e riqualificazione degli istituti scolastici al quale il Comune di Bari aveva candidato nove interventi in otto scuole cittadine. I progetti presentati dal Comune, due ciascuno dell'importo di un milione di euro, sono inseriti nella graduatoria in posizione utile per ricevere i finanziamenti previsti. Nel 2016 l'esecuzione dei lavori, con questo bando, afferma l'assessore dei lavori pubblici Giuseppe Galasso, riusciremo a realizzare due interventi già inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche liberando così risorse per 380 mila euro che potremo destinare ad altri interventi. Internazionalizzazione, ti dico come ho fatto, il titolo dell'iniziativa organizzata da Confindustria Bari e BAT per raccontare l'esperienza delle imprese che si sono messe alla prova sui mercati esteri. Dettagli da Roberto Maggi. Storie di imprese pugliesi, storie di imprese che si sono affermate all'estero. Internazionalizzazione, ti dico come ho fatto, è il titolo dell'iniziativa promossa dalla sezione Terziario Innovativo e Comunicazione di Confindustria Bari e BAT. Un numero sempre più alto di imprese infatti decide di allargare i propri orizzonti puntando su diversi mercati. Si pensi che dall'inizio della crisi economica le esportazioni in rapporto al valore aggiunto del manifatturiero sono cresciute dall'80% al 120% del 2012, soprattutto verso mercati molto fertili da un punto di vista economico. Ma internazionalizzazione non vuol dire solo esportazioni. Il percorso di apertura verso l'estero può avvenire secondo forme diverse. La Puglia è sempre stata una regione molto intraprendente, per cui è chiaro che forse un po' prima degli altri ha colto la crisi come opportunità. Quindi laddove il mercato nazionale andava via via contraendosi ha provato a trovare degli spazi in altri mercati riuscendo a portare a casa dei risultati importanti. L'iniziativa promossa da Confindustria vuole essere un'occasione di scambio tra le imprese che hanno già intrapreso un percorso di internazionalizzazione e altre che si affacciano solo ora su questo terreno. Fornendo la testimonianza di imprenditori che hanno già raggiunto importanti risultati guardando oltre i confini nazionali. Dalle eccellenze si deve trarre un elemento per quelli che vogliono intraprendere. Quindi questi sono degli incontri che si faranno sicuramente in maniera molto più ripetuta e devono dare il senso di trasferire le best practice a quelle che sono le aziende che intendono approcciare sistemi come quello dell'internazionalizzazione. E' polemica sulla situazione finanziaria dell'Ateneo di Bari. Siccome non siamo nati ieri sappiamo perfettamente che si aprirà l'ennesimo dibattito sul funzionamento delle università che dal nostro punto di vista ha l'obiettivo di smontare ciò che resta degli Atenei meridionali. Ne è convinto il segretario nazionale delle FLCCGL Francesco Sinopoli che commenta così i rilievi fatti di recente dal Ministero dell'Economia all'Università di Bari sulla base di una verifica contabile dalla quale sarebbe emerso un presunto buco di diversi milioni di euro che sarebbero stati utilizzati per pagare gli avanzamenti di carriera dei dipendenti. Per fare il punto della situazione oggi nell'Ateneo si sono incontrati sindacalisti e lavoratori. L'inchiesta del MEF non è conclusa sotto linea Sinopoli e noi come segretari nazionali siamo intenzionati, conclude, a evitare che l'Ateneo di Bari passi come un caso nazionale che diventa poi il presupposto per un nuovo attacco all'Università pubblica. Bagar questa mattina in Commissione Trasparenza all'Ordine del Giorno la natura giuridica della Fiera del Levante e il pagamento delle imposte comunali. Sentiamo cosa è accaduto. Ad oggi è cambiata la categoria dell'ente fiera. Quali sono le tasse comunali che la fiera deve pagare quindi? Diciamo che il cambiamento della categoria catastale da E a D8 quindi il cambiamento della categoria catastale non essendo più una categoria di tipo E che non paga IMU rientra nell'imposizione IMU. Conferma che l'IMU dovrà essere pagata? Io confermo che la categoria, non lo dice la sottoscritta, ma lo dice la legge le categorie E non pagano l'IMU, la categoria D pagano l'IMU va da sé che ne consegue, chiaramente essendo categoria D è assoggettabile all'imposta. Nella confusione della Commissione Comunale Trasparenza che questa mattina assomigliava più ad una lite di piazza una piccola certezza alla fine è arrivata. La fiera dell'Evante pagherà l'IMU in virtù del cambiamento di categoria catastale. Fin qui nulla a questio se non fosse che l'importo non è mai stato inserito nel bilancio di previsione che a breve approderà in Consiglio Comunale. Inutile dire che anche l'importo della tasse è avvolto nel mistero. Fatto sta che la fiera non ha mai ricevuto la temuta cartella, conferma l'assessore ammettendo un importante ritardo sulla tabella di marcia. Confusione anche sulla natura giuridica dell'ente che tuttavia passa in secondo piano perché spiega alla Savino che sia pubblica o privata non è rilevante ai fini del pagamento dei tributi. In due parole insomma il rebus fiera dell'Evante. Pochi giorni fa l'audizione del presidente Patroni Griffi che lamentava il dover corrispondere alle tasse comunali. Scopriamo che la fiera dell'Evante deve l'Imu, però il Comune non ha mandato la cartella esattoriale dell'Imu ad aprile nei mesi successivi, siamo a luglio, a breve andiamo in aula per il bilancio di previsione per il triennale fino al 2017, l'Imu della fiera dell'Evante non è iscritto a bilancio. E il pagamento dell'Imu da parte dell'ente è da aggiungersi agli arretrati Tarsu che ammontano ad 1.700.000 euro ma si conciliano con il bando per l'utilizzo dei suoi spazi. Con tutte queste tasse da pagare a chi converrà? L'ente che hanno partecipato si troveranno a pagare l'Imu, la Tasi e la Tari superiore a quello che sia il bando fatto. Andiamo avanti, parliamo della commemorazione di Michele Fazio ucciso per errore in una calda serata di 14 anni fa da un proiettile vagante esploso dai sicari di un clan contro esponenti di un gruppo rivale in Largo Mendonia, a Barivecchia il papà di Michele, Pinuccio Fazio e la mamma Lella sono tornati a rivolgere un appello alla città a collaborare per dire basta alla mafia. Con loro anche il governatore pugliese Michele Emiliano e il sindaco di Bari Antonio De Caro. Alla commemorazione hanno partecipato anche altri familiari di vittime della mafia, la vicepresidente di Libera Daniela Marcone. Sentiamo un estratto dell'intervento di Pinuccio Fazio. Oggi vogliamo dare e dimostrare a questa criminalità organizzata che lo Stato è presente, che lo Stato non abbassa la testa e neanche voi la dovete alzare. Noi è un appuntamento che citiamo qui ogni 12 luglio dal 2001 ad oggi, diciamo della specie di appuntamento per mettere a punto la situazione annuale della città annuale del quartiere. Si sono verificati delle sparatorie nella città di Bari, persino l'ultimo evento che è successo là quando hanno distrutto la targa dei calcetti dedicati a mio figlio, dove noi, io personalmente ho chiamato tutta la stampa e ho annunciato che non ho paura di voi. se è un atto di minaccia vi sto aspettando uno per uno e se mi venite a minacciare avete firmato la vostra condanna. Io non ho paura, noi non abbiamo paura e neanche la città di Bari, neanche il quartiere di Bari Vecchia deve avere paura, perché se noi abbiamo paura la mafia alza la testa. Bene, ci fermiamo, qualche stante di pubblicità, ma restate con noi perché tra poco torniamo con altre notizie. Rieccoci ancora qui in diretta, allora ripartiamo subito dalla protesta dei migranti del CARA, il centro accoglienza richiedenti asilo, che questa mattina sono scesi in piazza per chiedere il permesso di soggiorno e la libertà di circolazione. Chiedono il diritto al permesso di soggiorno e la libertà di circolazione e lo chiedono in piazza, ma in tutta risposta ricevono un'ulteriore stangata. Dovranno rivolgersi al primo paese che li ha accolti, che sia in Uruguay, in Pakistan o chissà dove. Questa ci informano la risposta ricevuta dal dirigente addetto all'immigrazione che ha ricevuto questa mattina la delegazione in prefettura. Un caso dublino al contrario, commentano. Appuntamento in corso Vittorio Emanuele per i migranti del CARA, stanchi in troppi di attendere da oltre un anno il risponso della Commissione territoriale sulla propria richiesta di asilo. Alcuni si lamentano di essere stati addirittura buttati fuori dal CARA senza alcuna spiegazione, pur avendo ancora diritto a rimanervi fino a dormire per strada. Ma non abbandonano le speranze e fanno sapere la settimana prossima torneranno a protestare. Il trattamento operativo di sanità del carcinoma della mammella e del colon è parlato nel corso di un convenno preseduto dal professor Gennaro Palmiotti, responsabile dell'unità operativa oncologica dell'ospedale di Venere. È importante soprattutto badare la prevenzione, curando la dieta e svolgendo controlli frequenti, soprattutto dopo i 40 anni. Una diagnosi e una cura precoce infatti portano alla completa guarigione. Nel 1878 Giuseppe De Nittis partecipava alla terza esposizione internazionale di Parigi. Oggi, in occasione dell'acquisizione del Palazzo della Marra al patrimonio della città di Barletta, si inserisce la mostra De Nittis all'Expo, in cui sono presenti alcune opere che l'artista pugliese propose in quell'anno per la collettiva parigina. Attraverso un'accurata selezione di dipinti si rinnova il legame del pittore barlettano con il panorama internazionale del XIX secolo. Paesaggi pugliesi e napoletani, vedute parigine e londinesi, raccontano un artista che vive la modernità di fine Ottocento in chiave impressionista. La Pinacoteca accoglie le opere di Giuseppe De Nittis, donate alla città natale dalla moglie Leontine Gruvel nel 1913. Non è soltanto una sede museale, ma rappresenta un ritorno a casa del grande artista che rinnova dalla Puglia il dialogo con i protagonisti di uno dei momenti più alti dell'arte dell'Ottocento in Europa. Bene, adesso passiamo al calcio. Come sapete, Tele Bari sta seguendo il ritiro del Bari. Allora ci colleghiamo subito in diretta da Roccaporena con il nostro Cristian Siciliani. Cristian, buonasera. Sì, buonasera Alessandra, sono qui con Salvatore Guastella. Dobbiamo subito una notizia dell'ultima ora di calcio mercato. Il Bari è forte su Cristian Sapunaro, terzino sinistro, con un palmares di tutto rispetto. Saranno valutate le condizioni fisiche del calciatore, però è una trattativa che potrebbe chiudersi anche nelle prossime ore. Sarebbe comunque un ulteriore colpo di mercato importante in attesa di novità comunque da Gianluca Sansone. Anche in questi minuti è in corso una riunione con la gente del calciatore. Alle nostre spalle intanto c'è il campo praticamente vuoto, però in giornata i giocatori hanno sudato e hanno sudato tanto, e anche in modo pesante, alle dipendenze di mister Nicola. Salvatore. Lo dicevo prima a qualcuno dello staff, in tantissimi anni i ritiri che ho fatto in prima persona, che ho visto e seguito, è il primo giorno di ritiro più intenso che abbia mai visto. Praticamente oggi i giocatori sono sfiniti tra l'allenamento di stamattina e quello pomeridiano, pensavamo fosse un po' più leggero, e invece hanno fatto delle distanze di resistenza già con GPS addosso e con cardiofrequenzimetro e sono andati tutti a livelli massimali. Ripeto, il più intenso primo giorno di ritiro che abbia mai visto nella mia vita. Ovviamente Salvatore, tra pochissimo a fine TG vedremo tutto, perché abbiamo documentato assolutamente tutta la giornata di ritiro bianco-rossa. Sì, vedrete, vi gusterete il primo giorno di lavoro di Nicola e della sua squadra e con delle gran belle immagini del nostro Paolo Gentile. Insomma, non vi perdete un solo secondo di ritiro bianco-rosso. Alessandra, da Rocca Polenetut, a te la linea. E allora, ringraziamo chi sia siciliani e il nostro Salvatore Guastella. Non mi resta invece che ringraziarvi, visto che siamo in chiusura. Adesso la parola va al meteo, però non perdete subito dopo il nostro telegiornale. Ritiro bianco-rosso, tutto quello che sta accadendo con la squadra del Bari, in diretta da Rocca Polena. Grazie per averci seguito e appuntamento più tardi. Il meteo è offerto da Civetteria Atelier e a Bari in via Dante 14. Al centro, bel tempo, con cieli sereni. Al sud, bel tempo, con cieli quasi sereni. Grazie per averci seguito e appuntamento più tardi. Grazie per averci seguito.